Alle provinciali la Lega Nord Trentino raccoglie il 6,6%, Maurizio Fugatti è soddisfatto? Siamo soddisfatti nella misura in cui c'è stato un crollo della partecipazione perché ha votato il 62% e nella misura in cui c'è stato il crollo degli altri partiti di centrodestra perché il PDL è passato dal 15% delle politiche al 4,5% e Grillo dal 20% delle politiche al 5%. Noi abbiamo tenuto il dato delle politiche intorno a 6,5% e in questo scenario difficile per chi si opponeva al centro-sinistra la Lega tiene e la Lega tiene e porta a casa un buon risultato. Certo è che noi avremmo voluto sicuramente fare di più però in questo scenario difficilmente si poteva prevedere un risultato diverso. È un punto di partenza? Indubbiamente, guardi alcuna stampa locale che sicuramente non ha tifato per la Lega come giusto che fosse oggi in questi giorni sui giornali sono costretti a dire vabbè la Lega c'è, la Lega è comunque radicata, la Lega in un momento così difficile riesce a tenere il suo risultato e questa è la testimonianza che il risultato è un dato buono. Da lì si parte anche per ricostruire una parvenza di centro-destra dove comunque la Lega a questo punto avrà la sua buona dote di importanza.